Perfetto, benvenuti a questa lezione sulla comunicazione paraverbale. Io sono Antonio e vi insegnerò l'importanza e la meraviglia dell'uso corretto della propria voce. Quindi cominciamo con il capire perché è tanto importante, a cosa serve saper usare la voce, perché sapete la voce è una delle cose che usiamo nella maggior parte delle persone, si usa molto poco in senso cosciente, cioè si usa per dire che sappiamo parlare ma non pensiamo a come la stiamo usando. Quando incontriamo qualcuno, quindi qualcuno che non ci conosce, la gran parte del messaggio è veicolato dalla voce, circa il 38% del totale della comunicazione, del primo impatto è la voce, quindi è veramente tantissimo. La differenza fondamentale con la comunicazione di tipo verbale, quindi con ciò che stiamo dicendo, è che il verbale comunica il messaggio, i gesti che facciamo, le espressioni facciali comunicano i pensieri, ma la voce comunica le emozioni. Penso che tutti sappiamo che le emozioni sono la parte più significativa di tutto quanto. Diciamo che quando comunichiamo ciò che vogliamo principalmente far sapere all'altro è quello che proviamo, quello che sentiamo, quello che stiamo in questo momento elaborando, quindi se siamo felici, se siamo tristi, è una cosa molto importante. È vero in certi casi diciamo, sì vabbè è meglio non farlo sapere, ok, però nella maggior parte dei casi è estremamente utile. Diciamo di più, se utilizziamo un telefono, beh lì allora la parte paraverbale, cosiddetta, è la più importante. Eppure nella maggior parte dei casi, come ho già detto, è sottovalutato. Facciamo un esempio, quando è l'ultima volta che vi siete registrati coscientemente, cioè che vi siete registrati, riascoltati, per dire sentiamo come è la voce oggi. Probabilmente non l'avete mai fatto, o magari l'avete fatto una volta, avrete detto che voce brutta, non voglio sentire più. È un po' l'effetto specchio, diciamo, ovvero quando è l'ultima volta che vi siete specchiati? Stamattina? Adesso? Poco fa? Perché vi specchiate così tanto e non controllate mai la vostra voce? Perché siamo abituati a specchiarci. Abbiamo il concetto di la mattina ci si specchia, ci si controlla, la sera ci si controlla, di continuo ci si specchia, mentre la voce vabbè chi se ne frega. Ma se la voce non la curiamo mai è come se non ci specchiassimo mai. È chiaro che non ci vediamo mai per anni, poi magari un giorno ci vediamo diciamo, oh che faccia che ho? E certo non sei abituato a sentirti, a vederti in questo caso, e non sei abituato così a sentirti, a sapere com'è la tua voce in quel momento. Vediamo un po'. Immaginiamo, allora penso sappiate che la prima impressione è il momento più critico durante la comunicazione con qualcuno, perché dobbiamo comunicare in pochi attimi chi siamo, tra virgolette, cioè siamo persone serie, siamo persone educate, siamo persone piacevoli, e se questo momento si lascia sfuggire è molto difficile poi recuperare. Vediamo quanto conta il paraverbale in tutto questo, abbiamo detto il 38%. Visto che le cifre ci dicono poco, proviamo a immaginare che la nostra intera comunicazione in un primo impatto è come una casa. Diciamo che all'interno di una casa il verbale conta molto poco, è molto importante, perché è avere un bel bagno. È chiaro che nessuno vuole entrare in una casa in cui il bagno fa schifo, però diciamo che quello che conta all'interno dell'intera casa, per quello che riguarda il verbale, è il bagno. Utile ma anche pochissimo. Da che siamo elementari curiamo solamente il bagno, possiamo dire, cioè ci viene insegnato, sin da quando siamo piccoli, a fare attenzione a quello che diciamo e non ad altro. Quindi le regole grammaticali, le regole eccetera eccetera, ma solamente cosa si sta dicendo. Il non verbale è ancora più importante, è la parte più insignificativa. All'interno di una casa possiamo dire che è la somma della camera da letto e della cucina. Quindi nessuno vuole entrare in una casa in cui la camera da letto fa schifo, la cucina è brutta. Per cui la parte non verbale, ovvero come ci vestiamo, le nostre espressioni facciali, i gesti che compiamo, sono molto 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 importanti. Sono di tutto il totale la parte più importante. Ma vi rendete conto che una casa non è composta di un bagno, più una cucina, più una camera da letto. Manca ancora qualche cosa. Nella maggior parte dei casi manca il soggiorno. Ora se il soggiorno è questo, fa schifo, è disordinato, non c'è un modo per riuscire a capire dove ci si è, capiamo bene che già stiamo perdendo molti punti. Per cui se noi facciamo entrare qualcuno in casa e il nostro soggiorno è così, è un po' come dire voglio fare conoscenza con te ma in nessun modo ho curato mai il mio paraverbale. Cioè sto facendo entrare qualcuno in una casa in cui non curi il soggiorno. La voce oltretutto ha un'altra caratteristica interessante, è il segnale di comunicazione più variabile all'interno di una comunicazione standard. Faccio un esempio, se io mi presento a qualcuno, durante quella comunicazione che farò la voce è la cosa che cambierà di più, perché posso cambiare il tono, il volume, posso parlare a voce più alta, più bassa, è difficile che posso in due secondi cambiare il vestito perché qui dice che è un vestito brutto, ok mi cambio, non fa. È difficile che posso dire ok non mi piacciono le parole chiusi, adesso cambio le parole, no io parlo in quel modo lì. Però la voce posso cambiarla comunque, sempre e in modo molto rapido, quindi è la parte che cambia di più, è una parte estremamente importante. Infatti non possiamo cambiarci da abito, truccarci, lavarci, pettinarci in un secondo, possiamo però cambiare la voce. Quindi possiamo cambiare quello che è l'intonazione, il volume, il ritmo, adesso li andiamo a vedere tutti quanti. Quello che è importante è che la nostra comunicazione completa può cambiare da un momento all'altro proprio in funzione di come usiamo la voce. Vediamo le varie parti, il timbro, io vi ho messo un simbolo per ricordare che, perché si chiama timbro? Non ne ho idea, che sinceramente non lo so. Che cosa è però lo so benissimo. Allora, è ciò che definisce una qualsiasi voce, ovvero distinguere la voce di un bambino da un adulto lo fa il timbro, distinguere la voce di quel bambino dalla voce di quell'altro bambino lo fa il timbro. In pratica che cosa è? È il suono che fa l'aria quando passa attraverso la gola sulle corde vocali. Le corde vocali di ciascuno sono diverse, chiaramente, perché alcuni ce le hanno più spesse, altri ce hanno più sottili, altri ce le hanno allenate, altri per nulla, alcuni hanno una gola molto larga, altri hanno una gola molto stretta, quindi è chiaro che già questo cambia. Oltretutto la voce deve attraversare tutta la gola. Chi saranno persone, faccio un esempio negativo che per ora rende l'idea, molti fumatori hanno corde vocali e gola rovinata per cui la voce ha un timbro distorto, sembra più roca, diventa più roca. Quindi il timbro ci permette di identificare la persona. Questa è l'unica parte del paraverbale che non posso insegnarvi a modificare, perché non è che vi posso dire ok, cambiare voce, però questa voce non è così armoniosa, perché non facciamo una bella voce più allegra? E vabbè, io questa ho, questa me la tengo e non posso cambiarla. Però ci sono delle situazioni che modificano il timbro, vi ho fatto l'esempio del fumare, va bene anche il fatto molto normale di avere, e questo è capitato a tutti, di avere un calo di voce, per esempio perché abbiamo un mal di gola o qualche altra situazione del genere, la nostra voce appare smorzata e ci rendiamo conto di quanto il timbro è estremamente importante. La notizia positiva è che pressoché nessuno ha un timbro orribile, a meno che appunto stiamo parlando di un fumatore che si è rovinato la gola, diciamo, di natura nessuno ha un timbro orribile. Ci saranno timbri più utilizzati, più piacevoli e meno piacevoli, ma contano veramente poco all'interno del totale della voce, dell'uso della voce. Vediamo il tono. Il tono è la parte più fraintesa, perché tutti dicono ah cambia quel tono, non mi piace quel tono, sì ma qual è il tono? Allora io adesso vi farò degli esempi. Prima di tutto diciamo che la gran parte della comunicazione paraverbale passa attraverso il tono, perché effettivamente i bravi comunicatori sono coloro che sanno usare il tono giusto nel modo giusto, nel momento giusto. Per la loro abilità maggiore rispetto agli uomini le donne sono più in grado di distinguere bene i toni, gli uomini hanno meno capacità in questo senso, non vuol dire che sono più brave a usarle, vuol dire che sono più brave a distinguerli. Gli uomini sono meno abili a distinguerli, quanto a usarli sono entrambi allo stesso livello, quindi che tu sia uomo o donna non è importante, dici ah allora sono un uomo, non mi interessa più. No, no, è estremamente importante esattamente come per una donna, la differenza è che le donne sono più abili a distinguerli. Ecco, io ho scritto siamo avari, nella maggior parte dei casi utilizziamo una voce con dei toni sbagliati, cioè non ci curiamo tanto del nostro tono. Normalmente usiamo i toni utili, variabili per gli amici, per i parenti, per coloro che ci sono vicini, però non lo facciamo con le persone sconosciute, il che già di per sé ci riduce molto la capacità di usarlo. Vediamo un po' cos'è il tono, vi faccio degli esempi. Il tono può essere alto, basso o medio. Un tono basso è questo qui, con il tono molto basso. Un tono alto è questo qui, quando stringo molto le corde vocali. Un tono medio è questo qui, quando tengo le corde vocali più o meno in mezzo. Io tendo a usare un tono più basso, perché è più utile. Non bassissimo, però basso. Perché? Perché il tono basso è quello che comunica meglio. Se avete notato, non è il volume. Non è il volume, lo ripeto. La maggior parte delle persone riuniscono tutta la voce all'interno del volume, cioè dicono, ah ma ha una voce potente, ha una voce scarsa, però effettivamente non è né una cosa né l'altra. Vuol dire che sta usando in quel momento un volume alto o un volume basso. Ok? Allora, diciamo che noi veniamo, sin da quando siamo bambini, veniamo abituati, allenati, addestrati a usare la voce più bassa possibile. Ci dicono sempre, parla a voce bassa, parla piano, che qui non si deve parlare. E che succede? Fai una volta, fai due volte, fai cinque volte, fai mille volte, nel giro di pochi anni, la maggior parte delle persone non sa più parlare a voce alta, sa solo sussurrare, bisbigliare, abituato a usare quel tono lì. Chiedevo, buongiorno signore, come va oggi? Eh? Che hai detto? Cioè, è così. È vero che un volume forte indica anche maleducazione, ma indica anche forza, energia, fiducia in se stessi. Non si può dire una cosa importante e dire, allora ragazzi, adesso questo è molto importante. No, ci deve essere il volume giusto. Così come un volume basso indica buona educazione, ma anche sottomissione, calma, rilassamento, ma appunto debolezza. Per aumentare il volume, beh, all'inizio soprattutto io suggerisco di rallentare il ritmo, cioè parlare poco, con una velocità ridotta, ma con un volume più alto. Ricordare anche, un volume sempre alto è fastidioso, alla lunga diventa anche dannoso. Ok. Dannoso per la voce, per la propria gola. Allora, facciamo la differenza fra tono e volume, che è importante. Il volume, io adesso manterrò lo stesso tono, un volume alto è questo, un volume basso è questo, il tono è rimasto uguale. Alziamo il tono, alziamo il tono a voce alta. Un volume alto è questo, un volume basso è questo, tono alto. Tono medio, possiamo dire col tono medio, un tono medio alto a voce con volume alto è questo. Un tono medio con volume basso è questo. Quindi il tono e il volume non sono la stessa cosa, manco per niente. È vero che la persona in genere unisce un po' le due cose e quindi fa tono alto, volume alto, tono basso, volume basso, ma le due cose non sono la stessa. Il ritmo, ok, così vi ricordate che stiamo parlando di ritmo, è la velocità dell'eloquio. Può indicare anche queste molte cose, tra cui un'energia, un'educazione o un canale rappresentazionale, perché ci sono diversi canali, i visivi, vengono detti visivi o detti vicini estesici, e il ritmo è quello che distingue di più queste tre categorie. I visivi sono coloro che pensano per immagini e quindi parlano molto in fretta, sono molto dinamici nel parlare. Possono esserci anche persone molto dinamiche ed energiche o che hanno fretta o che sono stressate e non sono visive, però normalmente i visivi sono quelli che parlano più in fretta. Un ritmo più lento, più calmo, più in certi versi noioso, comunque certo più tranquillo, è tipico di quello che viene detto il cinestesico. L'auditivo è a metà fra l'uno e l'altro. Anche il ritmo è estremamente importante. Nella maggior parte dei casi ci sono persone che dicono, vabbè, io parlo al mio ritmo, tutti adeguano, io parlo molto in fretta perché sono una persona molto dinamica e quindi devo parlare così e quindi non me ne frega niente se tu non riesci a seguirmi. E uno dice, vabbè, non ho capito niente. Altre persone che se la prendono comoda e parlano con un ritmo molto lento, anche con un volume buono, ma con un ritmo molto lento e anche queste persone non si adeguano agli altri e diventano veramente in certi casi noiosi. Per regolare bene il ritmo bisogna saper regolare il tempo e le pause che non sono la stessa cosa. Esempio tempo lungo, pausa. Parola breve, pausa. Più in fretta. Tempo lungo, pausa. Parola breve, pausa. In fretta con pausa tempo breve. Vedete, sono cose diverse. Ok? Quindi l'introduzione al paraverbale è questa parte qua. Ascoltatevi molto attentamente, da adesso in poi, nei pdf che vi ho allegato troverete diverse cose da fare, ma leggetelo dopo aver visto tutti i video. Grazie per il momento. Ci sentiamo nel prossimo video.